spuntano come funghi spuntano come funghi spuntano come funghi il mattino l'ora in bocca spuntano come funghi 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 questi influencer di cui non sentivo mai parlare prima e che poi scopro perché pubblicano libri basta basta spuntare come funghi altrimenti mi trovo a gestire 450 miliardi di libri trash basta gli youtuber sono finiti non andate a carpire roba da altri social basta basta ormai è una prassi questa cosa io non lo so ciao a tutti oggi nuova recensione trash per l'occasione disclaimer veloce non siamo qua per insultare penso che l'abbiate capito le recensioni trash hanno come unico obiettivo la critica di un libro che io riputo trash se a voi piace ben venga ognuno è libero di amare ciò che vuole anzi anziché porre delle critiche scrivete qua sotto perché il libro vi piace e sarà bello scambiare un dibattito quindi no insulti a autore casa editrice o fan del libro ma semplicemente le mie sbarazzine opinioni e detto ciò evviva allora il libro in questione è appunto un libro di una influencer Marta Losito hashtag nonostante allora chi è Marta Losito non lo so o meglio non lo sapevo questo libro l'ho scoperto perché me l'avete consigliato in massa dicendo Marta Losito ha fatto un libro io chi è quindi mi documento e poi dico no un'altra da musical.ly basta e quindi ho detto poi anche voi che mi consigliate libri fate bene ma la mia salute mentale non ci pensate non ci pensate poi mi chiedete perché urlo nei video per forza ecco basta comunque mi sono informato Marta Losito è una ragazza molto molto giovane a 15 anni credo e ha ottenuto un enorme successo sui social principalmente musical.ly e instagram ha anche tantissimi follower sul canale youtube ma non credo che sia una youtuber effettivamente perché pubblica pochissimi video credo che come altre colleghe lei abbia il canale youtube più che altro come supporto al suo self branding e quindi quando magari ha qualcosa da dire o deve fare dei vlog carica un video ogni tanto fatto sta che è molto molto seguita quello che faccio quando recensisco un libro trash di un influencer ve lo dico già è andarmi a cercare il video in cui ne parla video che sono tutti uguali di solito col titolo vi devo dire una cosa importante vi devo dire una cosa queste robe qua a volte sprofondano nel trash ricordiamo il video di Cleo Toms che ci parla della scelta della copertina rosa o del video dei Valespo in cui loro fanno finta di baciarsi e quindi tutte le fan tutte oh mio dio si baciano stanno insieme pipipipipipi in realtà è il libro con le date del firmacopie trash trash oppure appunto c'è chi è più sincero in questo caso ho apprezzato molto Marta Marta è una ragazza giovane che ha dimostrato di avere una testa sulle spalle ho detto oh finalmente un po' di autoconsapevolezza io di lei ho visto solo questo video e ho visto una ragazza comunque matura una ragazza sensibile di cui ho apprezzato molto il discorso generale e penso che sia l'unico video in cui l'unico video dedicato all'uscita di un libro che ho trovato veramente utile sincero cioè non mi vengono in mente altri video di influencer di presentazione dei libri così che mi convincessero sotto un certo profilo e lei c'è riuscita una ragazza che dice proprio in modo trasparente penso che sia l'unica o una delle poche che gli è stato chiesto di fare un libro e che lei non ha accettato subito perché era indecisa di cosa trattare è consapevole del fatto che un libro rimanga per sempre o comunque più che per sempre perché dipende dalle ristampe poi questi libri degli influencer in realtà sono un po' usa e getta quindi tra una decina d'anni spariranno o li troveremo nei mercatini e negli libracci però comunque è vero che quando tu pubblichi un libro non puoi cambiare nulla e soprattutto per il fatto che lei giovanissima età non sapeva non voleva fare un'autobiografia proprio perché non si sentiva all'altezza e non voleva scrivere un romanzo perché nonostante lei adori scrivere nella sua vita privata e le piaccia molto italiano come materia non si riteneva capace di scrivere un romanzo finalmente un po' di autoconsapevolezza e quindi vi chiederete di cosa parla il libro ci arriviamo allora lei poi ho apprezzato molto il fatto che abbia voluto usare il libro effettivamente come tramite con i follower dicendo che ha lavorato con una persona esperta un professionista e ci dice anche una grande verità ovvero che anche il più grande degli scrittori solitamente lavora con un editor lei in realtà la mette sul piano un po' semplicistico dell'una persona che ti aiuta con la grammatica ecco non è esattamente così però è vero che anche i più grandi scrittori lavorano con un editor una persona che comunque ha delle conoscenze è specializzato in materia editoriale e affianca lo scrittore questo assolutamente sì quindi lei in modo trasparente ha detto sono stata aiutata dimostrando anche che comunque c'è una certa presa di potere all'interno di questo libro da parte di questa ragazza che non ha non ha voluto non ha voluto scegliere la strada facile del ghost writer per poter mettere le sue idee aiutando facendosi aiutare con una persona esperta in campo editoriale questa cosa l'ho apprezzata molto e allora vi chiederete di che parla questo libro diciamo che lei dice non contiene poesie perché io odio le rime ok ma contiene dei pensieri tradotto è una Francesco Solata è proprio una Francesco Solata basic devo ammettere anche che molto del trash di Francesco Sole non compare qui più che nel senso che Francesco Sole a volte sceglie questa via facile social life un po' young un po' trasgri invece Marta è più un'anima antica è più un'anima di quel tipo di poesia che si traduce in caption perfetta per post su instagram ma ora lo vediamo nel dettaglio allora le cose trash sin dalla copertina allora hashtag nonostante dove c'è hashtag c'è il trash nonostante basta con questi titoli alla Sofia Biscardi basta e succede e abbastanza e poi arriverà spesso e poi arriverà tipo che ne so adesso arriva nonostante poi arriverà allora poi ma perché poi arriverà basta adesso parlo io di fa cioè io non lo so ma la grande chicca la fascetta una fascetta che dice un libro che le mie fan italiane non potranno ma non amare Anna Todd allora io sono contento per Marta che lei dice Anna Todd è la mia scrittrice preferita è questo un onore che abbia scritto la fascetta adoro però perché cioè io dico perché non ha senso secondo me poi ditemi voi cosa ne pensate però secondo me non ha senso che una scrittrice di romanzi faccia una fascetta del genere sul libro su questo genere di libri o meglio non su libri trash in generale perché anche Anna Todd abbiamo capito cioè nel senso però cioè troverei con molto più senso il fatto che un'autrice come Anna Todd metta una fascetta del genere su un libro dei Wattpad magari sempre trash ma un romanzo cioè perché una fan di After che magari non sa chi sia Marta Losito dovrebbe leggere questo libro mistero della fede non lo so non lo so ma andiamo con ordine allora a livello fotografico devo dire bene nel senso se siete fan di Marta Losito va benissimo a livello proprio estetico nel senso che molto spesso i libri di youtuber e influencer hanno queste scelte fotografiche opinabili foto stampate con pixel giganti che sembrano proprio degli screenshot dai profili instagram delle persone in questione in realtà qua c'è proprio uno shooting vero e proprio le foto sono ad alta qualità sono fatte appositamente per il libro quindi a livello puramente estetico devo dire che c'è stato un effettivo lavoro quindi bene allora Marta togliamo sta fascetta che ci impone dei problemi Marta ci dice la scelta del titolo nonostante vi devo anche dire che ogni volta è il crepacuore perché nei suoi pensieri che lei a volte chiama poesie a volte chiama pensieri poesie vabbè nei suoi francesco solismi quando compare la parola nonostante è sempre in caps lock quindi magari leggete robe tipo io amo te tu ami me nonostante la vita perché urli che ansia che disagio perché allora vabbè lei ci spiega nonostante esiste sempre un nonostante ecco perché ho scelto questo titolo per il mio libro non pensate che sia una parola qualsiasi non è così grazie ai nonostante si cresce è come dire ok se non ce l'ho ce l'ho fatta ci riprovo magari stai leggendo questo libro nonostante non ti piaccia leggere no vabbè aspetta però adoro adoro tutto andando avanti come è strutturato il libro il libro è strutturato in capitoli tematici ed è un po' la scelta tipica ad esempio di libri per youtube di youtuber libri di influencer l'amore l'amicizia devo dire che però ci sono dei capitoli più particolari ad esempio compare un capitolo sul cielo un capitolo sulla malinconia insomma c'è una certa ricerca anche nei temi da trattare se non che le poesie che contengono tutte le sezioni sono praticamente tutte uguali ce ne sono alcune che ho trovato anche molto carine per una ragazza così giovane cioè comunque secondo me Marta effettivamente ha lavorato a questo libro con grande impegno e si capisce questo sì però io devo valutare in base a quello che è ovvero una raccolta di caption per instagram niente di più niente di meno si parte con l'amore dove dice voglio te nonostante noi e ci dice l'amore è come una dizione in cui due termini fanno una somma c'è lo spettro di Francesco Sole che chiede il plagio praticamente però devo dire che è leggermente meno trash a volte nel senso che si sente una certa sensibilità fino a che mi sarebbe piaciuto essere il tuo libro preferito non un capitolo qualunque quindi a volte ci prova anche ad andare in territori un po' più vasco-brondiani dove c'è sempre anche il tema della lettura del libro e quindi vabbè andiamo avanti andiamo avanti poi ovviamente c'è il tempo di lettura di questo libro dieci minuti ora non ci credete perché dite centocinquanta pagine come fai a leggerla in dieci minuti? uno due vabbè qua c'è un po' più di testo dieci minuti tra cui ovviamente il momento social non esistono mi piace più importanti di un complimento non esistono views più importanti di un tuo sguardo non esistono stories più interessanti dei momenti in cui stiamo insieme tu sei il mio social preferito e io adoro condividere la mia vita con te e cosa vuoi che dica tu sei la mia notifica preferita e chi dimentica è complice poi qua io ero lì tutto tranqui giro una pagina ho detto oddio Apollinaire non so se voi avete fatto letteratura francese lo state facendo ma c'è un disagio qua che ho detto oddio è Apollinaire Apollinaire era un famoso poeta francese che a me piace anche molto che a volte faceva queste poesie sperimentali no e quindi qua è crollato la fonte quando penso a te il tempo si ferma quando penso a te il tempo si ferma e vabbè tutto molto bello tutto molto sperimentale un po' situazionista poi c'è il tema amicizia ti voglio bene nonostante nonostante vabbè adoro anche le illustrazioni sono carine devo dire questo nonostante che rimbomba è la nuova hashtag piccole cose comunque vi giuro il disagio tutte le volte che appariva un nonostante l'ansia troce la tua felicità non sta nel mio sorriso ma nel tuo allora tutto molto bello ma che cosa cambia da questo libro rispetto a Francesco Sole Joe Evan tutti gli insta poet cioè vi giuro e sono 400.000 persone diverse e tutte scrivono la stessa identica cosa poesie che potrebbe fare chiunque io ve lo giuro lo capisco più qua perché comunque stiamo parlando di una ragazza molto molto giovane che non è neanche che non si spaccia neanche come poetessa ma sono semplicemente dei pensieri sparsi li posso capire ma ve lo giuro io quando leggo ste robe dico perché perché dovrebbero esserci più autori diversi che parlano di sta roba io non lo so tu punto mi dici le cose che io non vorrei dirmi punto bah va bene siamo poi ancora lo spettro di Apollinaire siamo uno specchio ti guardo mi vedo mi guardi ti vedi che che è la versione evolution di Gevoluta di quella poesia di Francesco Sole no di Joe Evan che diceva ti amo perché mi ami mi amo perché ti amo una roba del genere oppure l'altra di Francesco Sole la felicità tu punto ed è subito sera vedo amanti che si incontrano vedere questa questa lunga in realtà non è una poesia è una lunga pagina in prosa dove sostanzialmente lei sta dicendo vai lotta per le persone che ami vai prendi un treno e corri corri più che mai gioisci la vita la morte ecco e lei praticamente ti dice sei una persona lontana seguila vai dove dove esplodono le cascate e ti dice corri il rischio fagli una sorpresa e prendi quel maledetto treno che ti accompagnerà per ben sei ore di viaggio poi e io ho detto wow che moda fino a che insieme all'odore nauseante come nauseante cioè è vero però mi hai caricato di empowerment e poi subito mi hai fatto crollare nella depression all'interno della tua carrozza e il signore che forse la notte prima non ha dormito cos'è sto delirio sembra quasi una disillusione dell'amore prima parti preso bene e poi e poi il signore che non ha dormito di fianco a te che ha un odore nauseante come la carrozza nel treno aiuto guarda che bel tramonto che cielo stupendo stasera che luna meravigliosa aspettiamo che finisca questa canzone prima di scendere dalla macchina queste sono le persone che amo va va bene poi andiamo avanti se unisco le stelle con una linea immaginaria riesco a disegnare nuove costellazioni che hanno la forma del tuo profino delle tue mani del tuo sorriso del nostro amore va bene le ho già lette ovunque queste poesie ovunque forse è solo perdendo te che potrò trovare me stessa e qua ha detto ma mica prima volevi perderti per trovare l'altro vabbè è un po' come i proverbi meglio soli che mal accompagnati da una parte e poi l'unione fa la forza dall'altra fantastico andiamo avanti andiamo avanti e poi di nuovo Polinair tutto torna tutto torna tutto torna tutto torna tranne te tranne te tranne te ovviamente c'è la pagina di Empowerment dedicata all'amarsi amarsi nonostante i propri difetti un tema che secondo me nell'adolescenza target principale di Marta sicuramente è importante finché sei tu che ti convinci che non sei abbastanza Sofia Sofia dove sei? Sofia perché c'è lo spettro della viscardi in ogni pagina qua dentro? sappi che ti stanno mentendo sappi che stai mentendo e il bugiardo sei tu bah ogni poesia che leggevo era lo spettro di qualcosa andiamo avanti andiamo avanti l'amore non si consuma più ne dai più ne hai mocha ucciderebbe qualcuno per avere questa frase e poi il mattino all'ora in bocca 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 la follia di Laga amati 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 io non smetterò mai di dirtelo tu non smettere mai di farlo giusto? poi c'è fatti travolgere poi c'è una poesia che esprime proprio l'entropia dell'esistenza fatti travolgere dal caos è un capolavoro fatti alvolgere trascinare stupire il caos il caos ti permette di scoprire nuovi punti di vista di vedere tutto da una nuova prospettiva di scoprire la vita di scoprire te stessa non temerlo è dal caos che nascono le stelle quindi anche dal mio comodino che è il caos esprime spuntano fuori tante 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 entità le stelle e la tua missione è brillare illuminare questo cielo qualsiasi cosa tu abbia a mente di fare falla falla al meglio ma soprattutto falla a modo tuo anche scrivere libri trash ho paura cercare l'amore in qualcun altro è la maggior fonte di infelicità trovare l'amore in qualcun altro è la maggior fonte di felicità bah poi avrei bisogno di un altro libro in realtà per dedicartelo tutto no cosa fai comunque andando avanti io devo ammettere che alcune cose erano anche carine però l'impressione che ho avuto è che ci fossero tre idee praticamente e le altre fossero proprio dei pensierini tutti uguali tutti uguali scritti in modo diverso per riempire pagine poi si arriva ovviamente al trash dalla francesco sole con noi maggiore di io più te classico sei una poesia vivente sei versi rime movimento ma mica odiavi le rime vabbè sei commedia e tragedia a pagine alterne in un racconto continuo di successi e imperfezioni fantastico poi c'è un momento una pagina di empowerment a caso sentite un molto francesco sole questa tutti noi siamo guerrieri e cerchiamo di cerchiamo ti ti non di portare a casa la vittoria il sorriso ok voi uomini allora poi dice che le donne siate principesse oppure guerriere voi uomini invece siate dei cavalieri a noi non importano i regali costosi o una cena romantica ma poi qua si abbassa totalmente il livello della narrazione perché prima dicevi lottate fate conquistate il mondo poi inizia il drama alla francesco sole perché francesco sole dice le stesse cose a lei non interessano le cene romantiche bastano i sorrisi le piccole carezze quindi vabbè è un disagio del genere ci accontentiamo delle rose anche quelle con le spine perché così ci fate capire che nonostante i nostri dianti difetti rimarremo sempre spettacolari e sostituibili nonostante tutto e nonostante tutti in un modo o nell'altro noi vinceremo questa grande battaglia chiamata vita e poi qua vi immaginate tipo una panoramica che va così inquadra il tramonto dove nonostante questa battaglia chiamata vita vabbè stiamo stiamo degenerando poi ovviamente torna Sofia Sofia eccoti e tu sei molto più che abbastanza sempre però manca un altro grande nome manca un altro grande nome e io lo voglio ricercare ma prima a volte sono così malinconica che mi metto a piovere cosa? bah poi qua c'è un altro momento il mattino loro in bocca sto bene sto bene sto bene sto bene sto bene sto bene io sto male sto male sto male sto male sto male ah si mancava un altro un altro grande nome a volte bastano le piccole cose per rendere felice una persona pom combo completa poi questa poesia questo pensiero mi ha fatto molto ridere perché tu che mangi un gelato io mi sono immaginato un tipo così io che ti guardo io immagino lei così e lui così io che cerco di imprimere nella mia mente ogni dettaglio di te ogni dettaglio di noi mi ha fatto ridere perché comunque la poesia ti deve evocare qualcosa no? a me hai evocato questo poi nonostante ho deciso le ultime pagine di cerchiare tutti nonostante fino a che non mi è morta la mano e poi ah si le piccole cose le piccole cose le piccole cose le piccole cose vabbè la combo completa poi arriva il capitolo sull'adolescenza chiarissimo preparatevi alla nuova hit dei Dari nel caso facessero una reunion siamo adolescenti siamo la generazione che crediamo essere la più complicata e difficili siamo adolescenti vogliamo solo vivere è una hit dei Dari ve lo giuro se vi piace poi Marta Passione Fumacupido se vi piace qualcuno diteglielo tradotto bacialo baciala e magari scoprireste che lui o lei aspettava solo che voi faceste avanti giusto aspetta ah poi c'è una frase secondo me è strutturata male adesso me la rileggo lei parla dell'adolescenza è il periodo in cui possiamo essere grandi ma piccoli perché siamo maturi per andare in discoteca e l'abbraccio davanti agli amici l'abbraccio della mamma davanti agli amici è da bambini siamo grandi ma piccoli perché siamo maturi per andare in discoteca e l'abbraccio della mamma davanti agli amici è da bambini ci sono dei problemi di struttura della frase qua poi lei fa questa cosa tipo un elenco lei dice questa non è una semplice lista di cose da fare è un elenco delle cose che mi rendono felici tra l'altro mi rendono felici non felice fa un elenco di cose ho detto ah vuole evocare le vacanze estive perché dice la pizza la coca cola al tramonto la pelle abbronzata le scottature e poi arriva la cosa che ho detto ma perché l'estate all'associo a quello una cronologia delle app senza la sveglia alle 6 di mattina solo in casi eccezionali se c'è da gustarsi l'alba perché le app associate all'estate non ho capito e poi ho il super potere di trasformare tutto in un casino che top anche io devo dire e poi niente andiamo avanti l'ultimo capitolo sono molto contento lei lo dedica all'arte lo dedica all'arte dicendo che comunque è attraverso l'arte che molto spesso noi scopriamo anche la bellezza della vita ed è una prospettiva che a me è piaciuta molto perché raramente la si trova in questo tipo di libri lei dice comunque che le piace molto leggere che le piace danzare e per lei l'arte significa tanto la musica che racconta i suoi sentimenti e mi è piaciuta questa parte fino a che ricordati sei molto più interessante del tuo profilo Instagram che tipo ha un certo sentore di Chuck Polanick perché Chuck Polanick in Fight Club diceva tipo non sei il tuo lavoro non sei i tuoi soldi non sei il tuo conto in banca cioè mi ha ricordato quella cosa lì fantastico leggere non salverà il mondo salverà te stesso dal mondo questo è vero questo gliele devo dare atto mi dispiace non essere stata la poesia che volevi leggere Emily Dickinson aiutaci tu e quindi niente questo era hashtag nonostante di Marta Losito pensiero secondo me per essere un lavoro di una ragazza così giovane che è stata chiamata a fare il libro da influencer devo dire che lei si è impegnata ha cercato di fare qualcosa in un certo senso il risultato è un libro di Francesco Sole senza il trash di alcune sue poesie però raccolta proprio basic di caption su Instagram niente di più niente di meno rimane l'oblio del perché Anna Todd lo consigli che per me vabbè per il resto nulla di che non straborda non straborda di trash nonostante 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 ok però è una ok brochure per i firmacopie nonostante non fosse stata quella la la l'obiettivo del libro è una brochure ok per i firmacopie ci sono libri di influencer decisamente peggiori valespo però comunque vabbè si legge in 10 minuti e costa 16 euro a prescindere che vi piaccia o no l'arga l'influencer c'è stato comunque dell'impegno alla base non è non è un libro di spessore ecco ci prova è anche empowering per il pubblico di Marta Losito ma se non la seguite non vi cambia non cambia l'esistenza nessuno dai obiettivamente detto ciò queste erano le mie opinioni sono esausto nonostante il trash io vado avanti resisto e combatto con voi diventerò il cavaliere che porta le rose con le spine e quindi preparatevi detto ciò vi saluto basta ciao a tutti disagio ciao 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 ciao